Ciao, sono qui in Marocco in un luogo veramente meraviglioso. Non ti dico il nome perché non me lo ricordo, ci sono delle bellissime cascate. E ne stavo proprio approfittando per fare una meditazione. È stata veramente molto bella e mi piacerebbe condividerla con te. Il pensiero che è emerso da questa meditazione è molto semplice in realtà. In questa meditazione è successa una cosa bellissima, c'è stata una connessione molto forte con tutto il paesaggio. E improvvisamente mi sono trasformata in acqua. Poi sono diventata la montagna, il vento, una foglia, una coccinella che volava. E mi sono proprio sentita in tutte queste forme una goccia d'acqua. E' quello che è emerso come consapevolezza, direi. E' proprio che tutto è attorno a te. Quando tu sei in una situazione di difficoltà, di problema, Sei in uno step, senti di essere magari bloccato o senti di avere delle resistenze nella vita. Quello che mi è arrivato proprio come suggerimento, che come ti ho detto è molto semplice, ma in realtà se tutti noi facessimo questo non avremmo questo tipo di problema, è semplicemente quello di arrendersi e di ascoltare. Di avere fede che la soluzione esiste ed è anche a portata di mano. Non sempre sei in grado di accedervi, perché altrimenti avresti risolto la situazione. Quello che puoi fare è chiedere e l'universo ti può aiutare, portandoti delle risposte, dei messaggi, delle indicazioni per trovare la via. Magari le persone che ti possono aiutare, che siano magari delle persone che ti danno semplicemente un'ispirazione, o magari anche delle persone che ti aiutano in modo specifico per superare quella situazione. Ad ogni modo, se tu ti trovi in una situazione perché sono in arrivo per te, nel momento in cui tu sarai pronto ad aprire la mente, ad accoglierle nella tua vita, le soluzioni. E quindi quando sei in una situazione di difficoltà, la cosa migliore è smettere di resistere, aprirti e permetterti di ricevere l'aiuto che l'universo è pronto a darti, perché tu possa fare questo step di crescita e di apertura. Ti mando un fortissimo abbraccio, tanta luce e tanta energia. E ci sentiamo presto. Ciao! Ciao!